America first, prima all'America. Si può riassumere con il suo motto più celebre il discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il Presidente degli Stati Uniti ha messo in mostra il solito repertorio, ribadendo l'importanza dell'autodeterminazione delle singole nazioni rispetto alla globalizzazione. I leader più saggi mettono sempre il bene del proprio popolo e del proprio paese al primo posto. Il futuro non appartiene ai globalisti, il futuro appartiene ai patrioti. Non sono mancate le bordate contro l'Iran, definito il maggior sponsor del terrorismo, e contro la Cina, al centro di una guerra commerciale con Washington. Gli Stati Uniti hanno perso 60.000 aziende da quando la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. Lo stesso sta accadendo ad altri paesi in tutto il mondo. Servono cambiamenti drastici. La seconda economia più grande al mondo non dovrebbe essere autorizzata a dichiararsi un paese in via di sviluppo per poter così ricorrere a pratiche commerciali scorrette. Per quanto riguarda la Brexit, Trump ha confermato la sua fiducia nel premier britannico Boris Johnson e si è detto ottimista a proposito di un nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Il Regno Unito si sta preparando ad uscire dall'Unione Europea. Ho detto chiaramente che siamo pronti a completare un nuovo accordo commerciale con Londra, che porterà enormi benefici ad entrambi i paesi. Dopo il suo discorso, Trump ha incontrato Johnson. Boris sta facendo un lavoro eccezionale, ha detto Trump, che poi ha promesso più scambi commerciali tra i due paesi.